Ok, questi sono gli argomenti, mettiamoli in fila, organizzati, Microsoft che compra Blizzard in contanti, 70 miliardi in contanti, i mercati che fanno un casino pazzesco, adesso li andiamo a vedere, meno 10, meno 5, cose che fanno il meno 40%, il meno 50, cose che fanno il meno 80%, le vediamo tutte, le commentiamo tutte, da partire dall'SP500 fino ad arrivare ad alcune aziende famose ma che sono andate un po' in crisi, per poi arrivare a 18 grafici che descrivono l'economia americana, a l'informazione, cioè questo articolo che spiega che l'informazione online è tutta tirata da due o tre monopoli, quindi non ti devi mai fidare, a siamo abbastanza rialzisti, un articolo molto interessante che spiega che forse non lo siamo davvero, a i consigli di Peter Lynch, se non sapete chi è Peter Lynch allora è un problema, a tante altre cose, che cos'è questo? È il buzz editoriale, ogni settimana, tra le settimane scorsa, perché c'era l'evento contro la ludopatia, è andato 1000€ alla lotta alla ludopatia, ogni settimana ci mettiamo qua e approfondiamo un po' di articoli per separare rumore dal segnale, cioè la tempesta di informazioni che ci piovono ogni giorno, ogni settimana, da quello che effettivamente ci può aiutare, ci può servire a migliorare il nostro trading e il nostro investing. Benvenuti a tutti signori in questo nuovo video, io sono Francesco Buzzi, trader investitore e founder di buzzway.it, vi ricordo l'appuntamento di lunedì, 31 gennaio alle ore 21, solo per investitori, chi sa cos'è l'investimento, chi vuole diventare investitore, mi raccomando, robachescotta.info, appuntamento del 31 gennaio alle 21, mi raccomando, è robachescotta, non è per tutti, ok? E direi di iniziare subito dopo la sigla. Eccoci qua, come al solito sul sito trovate l'articolo con tutti i link, che non ho ancora creato perché sono pigro, ma trovate tutti i link, trovate la replica di questo video, ci sono tutte le informazioni senza alcun problema e soprattutto, vi ricordo, robachescotta.info, ci sono tutte le informazioni, non vi registrate, non ti registrare se non leggi tutte le informazioni per accedere alla lezione del 31 gennaio. Mi raccomando! Allora, il primo punto che voglio affrontare sono i mercati, i mercati che crollano, quindi cerchiamo di approfondire un attimino questa questione. Questo è, iniziamo dall'SP500, abbiamo uno sguardo dal 2019, abbiamo il crollo del 2020, cerchiamo di zoomare un po', e 2021, abbiamo la fine del 2021, quando a settembre c'è stato questo ritracciamento del 6% circa, e poi è risalito ancora, e da inizio del 2022 ci sono stati un po' di problemi, praticamente il 2022 è iniziato in modo drammatico. Questi sono gli ultimi giorni, guardo solo i grafici giornalieri, non mi interessa andare oltre sui time frame più brevi, e abbiamo il, dal più alto massimo, abbiamo un drawdown del 7,86-87%, in 12 giorni, no. Sì, in 12-13 giorni, sì, 12 giorni, che, 12-17 giorni di calendario, che inizia a essere importante, inizia a essere rilevante, inizio a vedere notizie spaventate, tweet spaventati, di persone che iniziano un pochettino a preoccuparsi, perché un 7%, un quasi 8%, con queste grandi candele rosse, potrebbero iniziare a segnare un mercato ribassista. Il Nasdaq, il Nasdaq sta scendendo ovviamente ancora di più, perché è molto più volatile, e quindi abbiamo un 12,3% di ritracciamento sul Nasdaq, titoli tecnologici, questo è il grafico da marzo del 2020, e questo è uno dei crolli probabilmente peggiori, quindi inizia a esserci molta volatilità, rispetto ai volumi, ad esempio, non paragonabili a marzo del 2021, ma ci siamo, ci siamo abbastanza, poi farò magari un video a riguardo di approfondimento sulla volatilità, ma le barre sono belle e ampie, c'è parecchia amaretta, c'è parecchio movimento, c'è parecchia preoccupazione, su questo non c'è altro da dire. L'indice ha superato da tempo quota 20, abbiamo avuto il primo picco a fine dicembre, e adesso è poi sceso da sotto quota 20, che è una soglia immaginaria enorme, sotto la quale i mercati sono tranquilli e sopra la quale i mercati sono agitati, ed effettivamente siamo a 26 punti, che non è banale. Vediamo alcune altre cose importanti. Bitcoin fa il meno 44%, scende a quota 39.000 dollari, Ethereum, meno 42%, insomma, arrivano segnali preoccupanti, ARC segna i nuovi minimi, meno 52%. Peloton, li cito Peloton, se è un'azienda che non conoscete, perché sembrava la nuova azienda di rompente, eccetera, ha fatto il meno 87%, e quando si è quotata in borsa a settembre del 19, ha preso tutto lo slancio del 2020, ha raggiunto i 170 dollari, adesso 24 dollari. Male, male, male. Guardiamo qualche azienda veloce. Google, ritracciamento poco rilevante, del 6-7%, Amazon, ritracciamento abbastanza rilevante, del 20%, ma è una vita che è lì, è da giù luglio del 20, che è lì in questa fascia di prezzo, che non si muove, ma comunque è un 20% meno l'ha fatto. Adobe, meno 27%, Netflix, Netflix ha perso molto, meno 27-28%, Alibaba, eh, vabbè, questo lo sappiamo che ha perso una catera, non approfondiamo, hanno perso un bel po', oppure Apple, Apple sta perdendo il 10%, vi dico altre aziende che stanno perdendo parecchio, sono ad esempio Tiro, Tiro è un'azienda di gestione, che non nell'ultimo periodo, però, dal precedente massimo ha perso quasi il 27%, ma nell'ultimo periodo ha diminuito ancora di più la propria cre... la propria discesa, poi abbiamo Microsoft, che ha ritracciato, adesso ne parliamo, del 12-13%, e manca Tesla, vediamo Tesla, che è qua, no, che è qua, Tesla è lì, è lì, è lì che gigioneggia, non si sta muovendo granché, dopo aver toccato quei mega massimi, scesa il 17%, che per Tesla non è neanche granché, insomma, inizia ad esserci un po' di maretta, un po' di preoccupazione, intanto, fatemi sapere cosa ne pensate, vi dico la mia opinione, non è detto che non sia l'inizio di un ritracciamento, non so prevedere il futuro, il futuro è sempre imprevedibile, ciò che sappiamo è che nel 2022, nel momento in cui la Fed effettivamente dovesse mantenere la parola data, noi andremo incontro a tre rialzi di tasso di interesse, tre rialzi di tasso di interesse, sicuro come l'oro, significano alta volatilità e ritracciamento, se questo ritracciamento diventa crisi, recessione, non lo sappiamo, però sicuramente una maggiore volatilità, quella sì, quella sì, poco, insomma, c'è poco da dire, è quasi certo che sia così, due consigli da dare, uno, niente panico, nel momento in cui inizia ad esserci meno 5, meno 10, meno 15 sull'SP500, la cosa sicuramente che conviene fare è smettere di leggere i giornali, smettere di leggere i Twitter, e smettere di leggere Facebook, i gruppi Facebook, queste robe qua, è veramente una ricetta che ha un toccasana, punto numero 2, nel momento in cui siete investitori in azioni, è il momento di rientrare, ok, nel momento in cui avete un'azione che sta facendo almeno 40%, cioè avete già in portafoglio, ci sta in buon prezzo, si può ricomprare volentieri, bisogna fare le cose per bene, c'è tutta una strategia dietro, che non posso spiegare adesso, a parte che è lunga, ma poi c'è in un corso, investimenti in azioni per lupi, però è un'occasione, per gli investitori di lungo periodo, che investono in aziende solide e sane, e profittevoli, è un'occasione grande come una casa, soprattutto nel lungo periodo, ok, fatemi sapere cosa ne pensate di questi movimenti recenti, passiamo alle notizie, Microsoft ha comprato in contanti, aspetta vi faccio vedere una cosa, ha comprato in contanti Blizzard, Microsoft è questo qua, MSFT, so che sapete cos'è Microsoft, vi vuole far vedere una cosa, perché l'ha comprata in contanti? perché ha 130 miliardi di liquidità, 130 miliardi, con debito in diminuzione, eccetera, 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 e un margine netto del 38% in crescita, ok? ecco perché l'ha potuta comprare in contanti, ha comprato, ho detto Blizzard? No, Blizzard, Blizzard, e diventerà, ecco, leggiamo questo articolo qua, 5 motivi per cui Microsoft sta facendo di Activision Blizzard il suo più grande affare di sempre, molto più di LinkedIn, che è stata la precedente maggiore acquisizione di Microsoft, 1, le dimensioni diventeranno la terza più grande dopo PlayStation e Tencent, nell'ambito dei videogiochi, che è molto più grande come settore rispetto al cinema e la musica messa insieme, è molto più grande, quindi tanta roba, tanta roba, 2, il mobile, ok? Telefoni, Microsoft è esposta a zero riguardo alle app per telefono, Blizzard sì, Activision Blizzard sì, quindi è un modo per estendere la propria, il proprio business, 3, bypassa le commissioni dell'app store, ovviamente il problema con Play Store e Apple Store è che richiedono una commissione e rientra nella lotta all'app store. metaverso, metaverso, l'acquisizione offrirà comunità di gioco ancora più massicci, deve poter creare i propri metaversi, e, quando pensiamo alla nostra visione di ciò che potrebbe essere il metaverso, crediamo che non ci sia un singolo metaverso centralizzato, non dovrebbe esserci, dobbiamo supportare molte piattaforme diverse, no, molte piattaforme di metaverso, nonché un solido ecosistema di contenuti, commercio, applicazioni, è un modo per mettere un piedino nel megamondo potenziale futuro del multiverso. le 3C, cloud, contenuti e creatori, sostanzialmente è un modo per approfondire il discorso dei videogiochi, beh, leggiamo, Microsoft vuole ottenere la maggior parte dei contenuti passati futuri di Activision sui suoi servizi di cloud gaming, Xbox Game Pass, l'accordo consente inoltre a Microsoft di attingere un pool di giocatori che creano i propri contenuti in mondo di gioco, dopo aver raggiunto Minecraft, LinkedIn e GitHub, Nadella, il CEO, è cercato una grande risorsa che vi avrebbe dato un'altra grande opportunità, grande comunità di creatori, non è riuscito a ottenere TikTok, Pinterest, Discord, Activision è l'ultima opportunità che sono riusciti a cogliere, fatemi sapere cosa ne pensate, è molto interessante, io ho Microsoft, ovviamente, e sono molto contento di averla, se lo farei chiaro, no, dal, in 3 anni, 119%, era arrivata al, 153%, poi il ritracciamento adesso tra il mercato e tra l'acquisizione del 14%, io ho Microsoft, sono molto contento e questo fa parte del mondo delle imprese, cioè noi pensiamo, abbiamo fatica a capire i cambiamenti del mondo, no, le imprese però continuano a cambiare e cambieranno sempre, Microsoft è quello che è, ma è quello che è grazie a una serie di acquisizioni, allo spostamento del focus sul business, a investimenti, a ricerca e sviluppo, a adattamenti al mondo che cambia, eccetera eccetera eccetera, e questa è una cosa molto importante da capire, perché ogni tanto qualcuno dice, sì, io compro Microsoft, ma fra 20 anni come sarà? Ma non ci arriva dall'oggi al domani. ma non ci arriva dall'oggi all'oggi 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 all'oggi, ma non ci arriva dall'oggi all'oggi 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 all'oggi,